Ciao a tutti, come state? Sono Kelly, sono qui a Potenza. Sì, il mio blog di oggi è per rispondere a questa domanda. Qual è meglio? Bokwa oppure Zumba? Molte persone dicono che Bokwa non va bene perché è una replica di Zumba, loro stanno provando a fare le cose come Zumba, ma io, dobbiamo essere chiari, Bokwa non è uguale di Zumba, non è la stessa cosa, è proprio due cose diverse, dobbiamo dire. Con questo io dico anche, lo Zumba, a me amo lo Zumba, la mia famiglia è di Zumba, io faccio Zumba, dall'inizio, dal 2011 e a me piace proprio assai. Lo spirito di Zumba, mi piace, mi piace Beto, amo Beto, amo Loretta Bates, amo i miei Zess, Angela Varelli, Dickie Zagare, tutti quanti mi piace, Ali Ramirez, la lista continua. A me piace Zumba, con tutto il mio cuore. Ma, dico questo, non significa che non posso fare nuove cose, non significa che devo essere limitato e faccio solo Zumba, no. Io ho provato Bokwa, 2012, 2012 a Rimini, ok. Francesca, Francesca Flore, ciao, ha detto, Kelly, devi venire a provare queste cose che si chiama Bokwa. Io ho detto, papo proviamo, io sono qua per fare Zumba, ma proviamo questa Bokwa, perché no? Ho provato e meno male, perché ho fatto una cosa proprio bellissima, bellissississima. A me è piaciuto Bokwa, a me piace Bokwa anche ora. E con questo video vorrei dire che, raga, non dobbiamo essere limitati. Provate Bokwa, perché, you know, è bella, è una cosa bellissima. Non significa che, oh, ho fatto una nuova cosa, significa che devo lasciare lo Zumba, o no, no, non so, o, mamma mia, ho tradito Zumba. Non significa questo. Assolutamente no. Perché, dire la verità, Bokwa mi aiuta con, you know, lo Zumba, e vice versa. Adesso, è vice versa, no, no, vice versa. Bokwa aiuta con lo mio Zumba, e Zumba mi aiuta anche con Bokwa, you know, so, e io ho imparato un sacco di cose di, you know, da Paul Movi, il fondatore di Bokwa. Ho imparato assai, e, you know, a me piace questo. So, voglio dire, tutte e due sono discipline di fitness bellissime. Provate tutte e due, e due. You know, io vorrei anche provare altre cose. Che ne sai? Vorrei un giorno provare, come si chiama? Come si chiama? Quella, quella, P-Loxing. Non penso che è per me, ma almeno devo provare. Voglio provare Super Jump. Non dico è per me, ma almeno devo provare. E poi, quando provo, posso dare il mio opinione. Ma non dovete darvi un'opinione se non hai provato, non avete provato, you know, una disciplina. Provate, poi se piace, va bene. Continua, continuare, e, you know, diventa instructor. Se non piace, vabbè, ho capito. Lascia perdere. Ma almeno devo provare. E io vorrei dire questo con il video, il mio blog di oggi. Va bene. So, per me Zumba è bellissima. È il mio primo amore. E non lascio mai Zumba. Ma mi piace anche Bokwa. Bokwa è bellissima. È una cosa, you know, con energia. E mi piace anche Bokwa assai. So, you know, questo è. Questo è il video. Questo è il mio video, il mio blog. Va bene. Deuces, buona domenica. Ci vediamo alla prossima. Ancora devo fare il choreography di reggaeton. Mamma mia, sono già una settimana, due settimane che non ho fatto, ma faccio subito. Ok? Ci vediamo alla prossima. Ciao.